Non ho parole, non ho parole, non ho parole. Perché? Ma se di volta in volta la politica si improvvista in modo televisivo, cioè Giannini è uno che abbiamo visto queste televisioni, ma non vedo venire a parlare qui con gli albergatori di Revitoterme o con i lavoratori della Airbus di Arivino o con quelli della Bings di Porto Torres. Insomma, se non c'è una politica che faccia politica, che significa conoscere i territori, conoscere i problemi degli italiani? Allora, in modo così accelabili, non serve di politica italiana, non gli doce.